Come abbiamo lavorato e abbiamo potuto lavorare? Abbiamo fatto pochissimo, abbiamo fatto pochino, perciò dobbiamo ricordarci anche di questo, io non sono amante dei numeri, delle statistiche, non so come siamo arrivati finora rispetto al giorno d'andata con i punti, però di sicuro so che partendo da adesso, l'Evato Odinese, Atalanta, Inter, Bologna, Genoa, Milan, un punto. Sicché, memori di questo, abbiamo la possibilità di guardarci dietro e capire che in questo step di partite abbiamo fatto poco, e c'è la possibilità e ci deve essere la consapevolezza di andare a fare qualcosina in più perché se vogliamo arrivare a questa benedetta salvezza dobbiamo assolutamente far punti. In queste sei partite, non so dove, non so come, ma dobbiamo far punti rispetto alle sei fatte. Siamo preparati come, ci siamo sempre preparati con lo spirito di una squadra che sa che non può adagiarsi, di una squadra che sa che anche se ha fatto un punto importante e prezioso a Chievo, non è ancora, non può.